Sfuma purtroppo il sogno del mondiale azzurro delle nostre italiane per quanto riguarda il calcio femminile giocato. Infatti ieri purtroppo è arrivata la amara sconfitta, l'Italia perde contro l'Olanda, contro i Paesi Bassi, che di si voglia, per due reti a zero. A segnare due reti in questione, per l'Olanda ovviamente, sono state Viviana Miedema e Stefani Van der Graat. Miedema al settantesimo, Van der Graat al ottantissimo. Una partita non proprio delle più eccesse ovviamente per l'Italia, tra caldo affanno, stress, difficoltà di gioco, tatticismi non riusciti, fraseggi poco positivi, situazioni insomma non buone ma negative. L'Italia annacqua, annaspa, non riesce a raggiungere la vittoria, vittoria che invece raggiunge l'Olanda. La squadra porta a casa il risultato di due reti a zero, l'Italia resta lì a guardare. Il mondiale dunque di Francia termina qui per l'impegno azzurro. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi se vi va, commentate, iscrivetevi, ripeto se vi va, al prossimo video dal vostro Leandro, al vostro naratore italiano.